Giovedì 5 giugno 2014, dopo aver mangiato una pizza con Rainer, Marianna e di nipotini Tess e Tommaso raggiungo casa di mia madre dove questa sera dormirò e dove domani alle 6 e mezza mi raggiungerà Rainer. La moto rimane parcheggiata in strada per questa notte. Speriamo. Venerdì 6 giugno, si vede che sono incitato, è dalle 4 che continuo a rigerarmi nel letto, così alle 5 e un quarto sono sul balcone a scrutare il cielo. Beh, sembra che il tempo prometta bene. Quando finalmente alle 6 e 20 mi decido a scendere in strada, trovo già Rainer che mi aspetta. Un'occhiata al roadbook e dai, via, si parte. Ah, dimenticavo, questo è il roadbook e devo anche ammettere che per quanto non sia scritto sul roadbook, da Milano a Como, Monte Olimpino abbiamo usato l'autostrada. Insomma, tanto la pianura non ce ne frega niente a nessuno, meglio l'autostrada, dai! Grazie! 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 Grazie!